Carissimi amici, qui al Pet Carpet Film Festival abbiamo tantissimi artisti, attori, registi e qui accanto a me una meraviglia della cinemaurafia italiana. Eccola qui per voi. Karin Proia. Come lo scorso anno? Posso venire sempre perché se mi dici queste cose io mi gaso, capito? Già lo scorso anno abbiamo avuto questa presenza meravigliosa, oggi sei tornata e presentaci un po' qualche tuo animaletto. Io ho un cane lupo ciecoslovacco che si chiama Lika, per gli amici Lika in realtà si chiama Likaonia ed è una discolaccia perché piace correre, mangiarsi le cose in casa, si sgranocchia i tappeti, che ne so, però è una coccolona. È una vera e propria lupa, non l'abbiamo vista, meravigliosa, un colore eccezionale. Speriamo di rivederla presto. Eh sì, poi oggi non l'ho portata perché è stata in giro tutto il giorno e era stanca, lei in realtà dorme sempre, però la prossima volta la porto. Va bene, allora in bocca al lupo e buona giornata. In bocca al Lika. Ciao.